Ninfeo ASMR Ciao a tutti, ciao a tutti ninfetti Come state? Bentornati in una nuova sessione di studio con me Quest'oggi torno a fare matematica Voglio riprendere un po' in mano gli studi di funzione Che poi è l'argomento di quinta liceo alle superiori E in teoria è anche oggetto di esame di maturità Anche se quest'anno, a quanto pare, l'esame sarà un po' differente E prevederà un elaborato con le materie di indirizzo Bene Prendo le mie penne E mi preparo Con lo studio di funzione Quindi Tutti Funziona Non so se lo farò tutto Anche perché Lo farò insieme a voi Quindi magari potrei anche fare qualche errore Però È un po' come se stessi facendo dei compiti insieme a voi Allora Allora La funzione È questa Allora 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 Attraverlo Allora 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 esempio 4 maggiore uguale a 0 perché il praticando deve essere positivo quindi il numero 2 maggiore uguale a 0 quindi x alla seconda più 7 maggiore uguale a 0 quindi il numero 2 maggiore uguale a 0 e questo è per ogni x pertenente il denominatore deve essere solo maggiore uguale a 0 quando abbiamo x più 4 maggiore a 0 x non maggiore di meno 4 quindi facendo breve studio dei segni studio dei segni abbiamo allora numero 4 numero 2 numero 2 numero 3 numero 2 sempre positivo numero 2 numero 2 numero 2 numero 2 positivo quindi abbiamo eccoci purtroppo la mia fotocamera sta tirando la cuoia E quindi non mi ha registrato tutta questa parte, semplicemente fatto lo studio dei segni e più per meno meno, più per più più, quindi è positiva qua, per prendere ovviamente il più, quindi è positiva, da meno quattro poi. Adesso facciamo l'intersezione con l'osso dell'X, perfetto, quindi dobbiamo porre poco Y uguale a zero, quindi abbiamo tutta 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 la nostra radice. Foggio all'C, alla seconda, più sata, più sata, x più 4 uguale a zero. Pagino, tipo, red, è troppo e meno, pure al quattro lato, quindi x alla seconda, più sata, x più 4 uguale a zero. e poi quindi il terminatore va lì perché immagino ti muore di pregare il termine per lo stesso quindi x alla seconda più 7 uguale a 0 x alla seconda uguale a meno 7 e per nessuna x ottenete r quindi non ci sono intersezioni con x ok ora tiriamo un foglio andiamo avanti 1,2,3 sezione con classe Y in questo caso dobbiamo porre poco x uguale a 0 quindi questa cosa dobbiamo sostituire sopra 0,2,3 più 7 fratto 0 più 4 questi uguali ho fatto l'uguale in un punto sbagliato e super preciso uguale radice di 7 per la radice di 4 di 2 e aspettate lo faccio con la calcolatrice devo vedere quanto viene più o meno scusate ok viene circa più o meno più o meno 1,3 ok quindi qua c'è l'intersezione quindi devo fare lo studio studio del segno studio del segno studio del segno studio del segno ho fatto il lontananza di sento le campone allora dunque io so che quindi 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 a la seconda più 7 fratto x più 4 minore di 0 qua la funzione non esiste quindi la funzione non esiste quindi spero di non sbagliare questo studio di funzioni quindi perché la funzione esiste solo esiste solo con un radicando positivo vediamo se riesco a spiegare il caldo il caldo è sempre è sempre è sempre è sempre positivo quindi quindi se questo si è radicando è positivo anche tutta la radice è positiva quindi quindi la funzione è positiva per x maggiore di meno 4 ok ora 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 se non mi sbaglio dobbiamo trovare gli asintodi facciamo prima gli asintodi verticali 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 vediamo un po' magari ho sbagliato qualcosa però mi sembra allora noi a sinistra la funzione non ce l'abbiamo quindi dobbiamo determinare solo il limite del tempo destro quindi aspetta lo scrivo così allora a sinistra a sinistra di meno 4 la funzione non non esiste quindi si determina solo il limite destro 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 è il limite destro 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 è il limite destro il limite destro è il limite destro sotto 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 allora il limite destro il limite destro è il limite destro il limite destro è il limite destro quindi è il limite destro 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 coincide con il dominio questo è il limite destro che è il limite destro è il limite destro quindi e per ogni punto dunque qua dobbiamo fare tutti e due quindi il limite per x che tende più infinito della nostra radice che è uguale e sarebbe più infinito fratto più infinito che è una forma indeterminata quindi noi per les ombre possiamo fare l'oltre mitenti x che tende finito di l'oltre mitenti x che tende più infinito qua è semplificato quindi proviamo con una parentesi anche se c'è anche l'altra parentesi però x più 7 fratto x fratto più 4 fratto x allora in questo caso avremmo infinito più 1 fratto più infinito quindi più infinito fratto 1 più infinito 1 fratto più 2 fratto infinito 1 fratto più 8 fratto più 0 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 fratto spero di aver fatto giusto spero 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 poi dall'altra parte abbiamo invece il limite per x che è termine infinito sempre della radice la di giovane rimane le volte fratto x più 4 quale? beh è la stessa cosa tranne per il fatto che sotto se qua è ben infinito più 4 è ben infinito però comunque qua è ben infinito che è indeterminata in realtà dobbiamo fare la stessa cosa quindi arriviamo a questa a questa cosa non sta a rischierare tutti i passaggi quindi abbiamo il limite per x che è termine infinito di questa operazione e lo dobbiamo semplicemente restituire quale? allora sopra con cui ben finito sotto 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 è uno, sopra uno no ma sopra me è infinito scusate sopra me è infinito copiato con quello sopra perché abbiamo il meno infinito quindi dovrebbe essere il meno infinito quindi dovrebbe essere il meno infinito quindi non ci sono sintoti orizzontali non ci sono sintoti orizzontali ok? bene ora oddio dobbiamo farla derivata così stabiliamo il minimo l'eventuale massimo eccetera andando poi a studiarla bene noi dobbiamo fare la derivata di questa roba di x 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 quindi 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 allora dunque deve essere deve essere uno un 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 ogni ore un 4 e poi il D perché allora 2x per x più 4 meno 2 fratto x più 4 1 seconda casino dunque allora di tutto qua farei semplicissimo sposto l'altice sopra e sotto con i miei piedi e allora posso amare più 4 ok e di qua e cominciare a risolvere quindi risolvere punto 2x alla seconda più 8x meno x alla seconda aspettate o aspettate o aspettate più 7 aspettate 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 spettate spettate e poi e poi ecco più 4 la seconda poi non voglio fare questo nuovo casino il coso allora qui qua oddio qua cosa posso fare qui cosa posso fare qui potrei questo denominatore andare a moltiplicarlo quindi fare radice di x più 4 ok quindi qua qui moltiplica quando andiamo a sommare quanti sommiamo ma ci diventa che che sia la seconda più 8x meno 7 prato qua adesso mi conviene tenerlo si è già raccolto è già raccolto così e ora moltiplico tutto che è derivata mamma mia adesso dobbiamo andare a studiarla al casino x più 4 che è la seconda più 8x meno 7 tratto due radice di x alla seconda più 7 che è la seconda x più 4 alla seconda oddio allora questa è la nostra derivata allora studiamo il segno della derivata della 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 derivata di allora ora andiamo per blocchi x più 4 ci vediamo la radice di x più 4 maggiore di 0 per ogni x pertenente a te poi per 2 riscordiamo la radice di x del secondo più 7 è uguale per ogni x per ogni x appartenente a te questo non è così difficile non è così difficile invece abbiamo questo che dobbiamo andare a vedere quindi x alla seconda più 8x è una 7 maggiore uguale a 0 quindi quindi facciamo la terza che vi ricordo è per la seconda più 4c quindi allora e quindi 8xper8 è 9 4c maden languages 4c Quando i questa fanno 92 ok quindi x 1 vuoi meno 8 più o meno la radici di a x la radice di 92 sarebbe, fatemi fare di fianco, allora 92 sarebbe 2, 46, 2, 23, sarebbe 2 per la radice di 23, quindi scriviamo direttamente così, almeno non stiamo a fare due passaggi, tiriamo ora fuori sta radice, quindi scriviamo 2 per la radice di 23, 42, 4, qua raccogliamo, 2, risiplica, 4 più o meno la radice di 23, 42, qua semplificiamo il 2, quindi abbiamo x1 uguale a meno 4, perché si fa sempre quello col meno, meno la radice di 23, x2 uguale meno 4 più la radice di 23, quindi immaginando di fare la parabolina ne dobbiamo prendere quelli positivi, quindi devo tirare fuori comunque questo foglio, e direi facciamo il segno della derivata per gli integrali, no, non ho voglia, tanto, gli integrali servono solo per delimitare la regione dello spazio in cui si trova una funzione, però si può disegnare anche così, quindi ora facciamo lo studio dei segni, quindi ne abbiamo innanzitutto sopra la radice di x2 uguale a meno 4 meno radice di 23, a meno 4 più la radice di 23, insieme per lo studio dei segni, anche se vabbè adesso già cosa viene fuori però, facciamo ancora lo stesso, qui abbiamo la prima che è la radice di x più 4, poi abbiamo la radice di x la seconda, poi abbiamo la seconda, poi abbiamo la seconda, poi abbiamo questa ultima, vabbè, scriviamo la x alla seconda, più 8x, eh, più 7, no, meno 7, comincio a svolvolare, vabbè, insomma questo ultimo che abbiamo fatto, quindi, guardi, 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 le prime sono tutte positive, sempre, op, 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 era sempre positiva, mentre questa è negativa, solo in mezzo del positivo qua, quindi da lo studio dei segni, ma come già sapevo, senza neanche di farlo, abbiamo più, meno, più, e quindi, allora intanto vediamo se si è asciugato, si, quindi, la derivata prima è positiva per, allora, allora, questo valore, che però mi sa che lo dobbiamo escludere, perché, dopo vediamo quanto vale, però, vediamo se lo dobbiamo escludere, e per meno 4, più la 10 di 23, questo, adesso, adesso vediamo, faccio con la valgolatrice, meno 4, meno la 10 di 23, scusate se non ve la mostro, ma, allora, meno 4, meno la 10 di 23, ok, equivale a circa, questo valore, più o meno, meno 8,79, quindi non lo prendiamo, e questo ve lo dico subito, allora, ok, questo è circa 0,79, quindi dobbiamo considerare questo valore, che in teoria, poi andiamo anche a segnare, sulla curva, però ragazzi, non so se fare il disegno, perché veramente, finirò dopo, anche perché forse devo fare, però il disegno, avrò, vabbè, vabbè, lo faccio, perché la persona è in una posizione scomodissima, però anche il disegno, comunque, sono scomodissima, dunque, 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 qui abbiamo, a corrispondenza, noi sappiamo che a corrispondenza del meno 4 abbiamo, una linea, che non deve essere balicata, e quindi di qua la funzione non c'è, e questo lo sappiamo già, poi sappiamo che non ci sono asintoti orizzontali e che la funzione non ci sono neanche intersezioni con l'asse X, quindi questo mi significa che visto che c'è solo un'intersezione con Y se non circa 1,3, tipo 1,3 sarà più o meno qua, anche sotto noi non abbiamo la funzione che si concentra tutta sopra noi qui abbiamo, avremo qui il limite che farà scendere tipo una funzione più o meno così e poi abbiamo questo 0,79 che dovrebbe essere il punto più basso in cui si trova la funzione, quindi tipo qui qui, quindi in teoria dovrebbe scendere un po', in realtà non ne sono sicura in teoria dovrebbe scendere fin qua poi risalire un po', seguirla al minimo, tipo così e poi ovviamente continua poi il disegno non sono sicurissimo, però dovrebbe essere così devo assolutamente riprendere in mano gli studi di funzione in modo più approfondito però era solo e unicamente per rilassarvi visto che il precedente video vi era piaciuto tanto 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 e carri di infetti spero davvero che il video vi sia piaciuto vi è fatto grande, 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 dit 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 Grazie.